Restiamo a Sassari dove in 450 si sono dati appuntamento per Vivi Città, una corsa di 10 km per dire no alla guerra. Giovanni Pinna. È un bel modo per socializzare, per stare tra noi, tra gli appassionati. Veramente stando insieme possiamo dimostrare che abbiamo bisogno di pace. Appuntamento in Piazza d'Italia per il riscaldamento prima della partenza. Gli iscritti sono circa 400, la maggior parte ha scelto il percorso breve di 5 km. 160 affrontano la corsa competitiva, tragitto di 10 km. A Sassari Vivi Città mancava da 20 anni, coinvolge 30 città italiane ma si corre anche a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina dove è presente un drappello di sardi. Edizione speciale, la WISP destinerà tutti i proventi raccolti per progetti di cooperazione e sostegno a favore della popolazione che soffre a causa del conflitto. Abbiamo voluto fortemente abbinare una gara che notoriamente porta un messaggio di inclusione alla situazione che stiamo vivendo oggi in Ucraina. Tramite lo sport si possono raggiungere valori sociali anche molto molto importanti.